No, quella qua stai. Sono venuto a mettere a posto una questione che avevo lasciato un po' in sospeso. E quale questione? Tieni, non voglio avere debiti con te. Sei tifoso? Sì, perché è un reato? Fabio, che c'è la foto tua di Dario a casa Alice, dallo stadio, una letta dell'Inter. Questo portasodi l'hai rubato con i soldi dentro o a parte? Senti, adesso te ne ti fai. Senti, grand'uomo, tu hai una minimità dei guai in cui ti sei messo. I tuoi soldi non li voglio. Vuoi i miei soldi? Sai che cavolo mi frega. Tanto non puoi uscire dall'ospedale, l'hai sentito? Guarda, io non sono un tuo paziente, io faccio quello che voglio. E tu non puoi uscire lo stesso. Oh, tu a me ordini non ne dai. E tra un po' smetti di darli anche a mio fratello, capito? Purtroppo ci vediamo tra poco. Forse non ci siamo capiti. Io devo uscire. Senti ragazzina, sei tu che non hai capito? Abbiamo appena ricoverato la paziente con una malattia infettiva molto grave. E non possiamo uscire da qua per cinque giorni. Eh, Pirlone, hai preso la parola a questo, eh? Dottor Molossi, scusi, c'è bisogno di lei della Beltrame. È urgente, per favore. Arrivo. Andiamo.